La sera in diretta con si occupa del castello aragonese di Ischia con un focus un po' speciale. Non parleremo infatti della storia del superbo maniero, ma tratteremo due argomenti che poi vedremo essere strettamente correlati. Il cibo e la natura del castello. Il cibo? Sul castello si cucina con una particolare attenzione alle tradizioni gastronomiche ischitane. Tutto questo avviene nel ristorante Il Monastero ad opera degli chef Gaetano Ferrandino e Michelangelo Iacono. Questi maestri dei fornelli sono entrambi molto attenti a preparare piatti che abbiano come fulcro principale i prodotti locali con un particolare riguardo per i frutti della terra. E questa dell'orto è una partita che si giocano in casa dal momento che attingono primizie in co direttamente nella campagna turrita del castello aragonese. Un orto biologico tucur che Nicola Mattera, il proprietario del castello aragonese, ha fortemente voluto nel segno della continuità familiare. Il primo nucleo fu infatti impiantato dal padre Gabriele Mattera, l'artista scomparso nel 2005. Quindi per tornare alla cucina e a ciò che vedrete questa sera, gli chef del monastero ci offriranno un utile tutorial per preparare due deliziose ricette rigorosamente ischitane, mentre Nicola Mattera ci condurrà alla scoperta di questo fertile orto turrito. E poi non mancherà un ulteriore approfondimento sul castello, dove storia e natura si incontrano. Il professor Giuseppe Sollino, naturalista e autore di tante interessanti pubblicazioni sulla flora ischitana, ci narrerà di un giardino speciale che tanto tempo fa fioriva sul castello d'Ischia, quello di Vittoria Colonna. Ma il discorso si amplierà anche sui secoli che seguirono in un racconto appassionato sulla storia della natura dell'insola Minor, che è un po' un capitolo a parte rispetto alla natura della grande isola di cui fa parte.